Bruno Editore presenta Enneagramma per tutti Comprendersi ed evolvere attraverso l'enneagramma di Antonio Merida Introduzione Benvenuto alla lettura di questo libro sull'enneagramma Io sarò la tua guida per spiegarti come applicare in modo concreto questo fantastico sistema per conoscere meglio sia la tua personalità che quella degli altri Ho conosciuto per la prima volta l'enneagramma pochi anni fa e il primo impatto, devo ammetterlo, non è stato dei migliori Il sistema mi appariva complesso e troppo schematico molto da libro Mi sembrava assurdo pensare di ricondurre tutti i differenti caratteri umani ad appena nove tipi perché questa è l'ipotesi che guida l'enneagramma Ogni personalità, per quanto complessa e sfuggente appartiene a uno stesso fondamentale schema di riferimento identificabile tramite l'enneagramma Perplesso, studiai il libro per abbandonarlo poco dopo Incontrai poi un praticante di quel sistema e, più per non offenderlo che per vero interesse, ascoltai la sua definizione della mia personalità Mi colpì la precisione con cui riusciva a definirmi dopo pochissime battute scambiate e soprattutto il fatto che sembrava conoscermi meglio di quanto io conoscessi me stesso Sulle prime pensai che questo fosse dovuto a una sorta di generalizzazione come nell'oroscopo Si dicono decine di caratteristiche, spesso diverse una dall'altra E quando si nota che ce n'è una in comune, l'esperto di turno ti fa Visto? Sei testardo, proprio il tipico toro Ma con l'enneagramma la cosa era totalmente diversa Non ci si basava sul mio comportamento generico, né su cose evidenti o meno evidenti Ci si basava su concetti per me nuovi e, per la maggior parte, incomprensibili al tempo Successivamente ho applicato con successo quel sistema e oggi sono in grado, dopo una pratica minima, di decifrare il comportamento di chiunque in poche battute Non ci si azzecca sempre, sia chiaro Non si parla di magia Quindi c'è un certo margine di errore che però si ridurrà via via che applicherete questo semplice ed efficace metodo Spero quindi che seguirete questo ebook e che riuscirete con esso a diventare in breve tempo dei veri maestri dell'enneagramma Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!